Allora, in attesa che arrivi Mrs. Jane Jackson, cominciamo lo spettacolo, sta arrivando a momenti e andiamo con la prima esibizione, abbiamo Lene Jackson con Fabio Gianchi. Lene Jackson con Fabio Gianchi Lene Jackson con Fabio Gianchi Lene Jackson con Fabio Gianchi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti